Leonardo Bonifazio, ho 28 anni, sprinter. Per me la bicicletta rappresenta una passione, sia nel mezzo che nelle corse, nell'uscire in bicicletta, è una passione di famiglia. La mia corsa ideale potrebbe essere la Milano-Sanremo, anche per aiutare mio fratello, e mi piacerebbe fare bene anche a GP4MIS, dove avevo fatto quarto due anni fa. Per me la vittoria più importante è la Coppa San Geo, sono arrivato da solo e capita raramente di arrivare da solo. Per me la vittoria più importante è la Coppa San Geo.